Andiamo da Montemarcello a Punta Corvo. Andiamo a fare il bagno di notte, spedizione notturna, ora di qua spiaggia di Punta Corvo e Punto Panoramico. E' questo qui il sentiero? E' bellissimo la giù sotto Panoramico. E di qui invece parte il sentiero per Punta Bianca e Bocca di Magra, quindi bisogna scendere giù di qua. Sì, di qua si va. Sotto mettiamo il percorso di relief, va bene, anche se è molto semplice, nelle descrizioni. Qui c'è il bivio, che vuoi fare la foto? Allora qui c'è la deviazione da questa parte, ma bisogna andare a sinistra, a Punta Corvo. Fuglio qua, eh? Eh? Dai, sbirghiamoci ad andare giù. Vai. Siamo arrivati? Siamo quasi arrivati. Guardate la vecchia sparinata. Qual è? Ah, quella è quella vecchia. Guardate la vecchia sparinata. 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 E allora si rientra? Sì Aspetta Qui ormai è buio Sentiero Forza Ere dai Capito? Cosa ho detto? Che sai da fare la guerra? No scherzo E che scherzo Ora abbiamo allungato Siamo passati da un'altra parte Abbiamo un po' allungato per rientrare Comunque da più o meno va bene E siamo arrivati qui davanti Il giardino Dove fanno le focacce spettacolari E il sentiero Iniziava di qua Giusto? Vai Alleluia Grazie 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 a tutti.